benvenuti alle profumerie cap oggi vi illustrerò tutti i prodotti estetici e tricologici quindi per la cura dei capelli che potete trovare all'interno dei nostri punti di vita forse non tutti sanno che nelle nostre profumerie cap in via faggio 62 pesa rosdonna pantano potete trovare un sacco di prodotti professionali anche ad uso casalingo come gli utilissimi lavatesta e perché no i caschi di una volta ma professionali coperti da assistenza e garanzia in vastissimo assortimento di parrucche extension code frange sia di capelli naturali e di capelli sintetici sempre al miglior presto sul mercato anche nel prodotto professionale non si rinuncia alla qualità e al colore le piastre ghd le mini piastre colorate da viaggio ma anche una coloratissima idea regalo fino ad arrivare ai prodotti più particolari come le piastre di ultima generazione ad infrarossi sempre tutto coperto da assistenza e garanzia cap chiaramente non possono mancare i ferri per arricciare i capelli onde performanti con l'effetto bubble oppure con la versione in oro 24 carati tantissimi oggetti anche in più strani ed introvabili come per esempio la proboscide si usa attaccandola a un normalissimo fondi casa ed è come avere un casco professionale e poi i nostri fondi professionali parrucs alion il nuovissimo fondi ionico leggerissimo ultra potente assortito nei colori e tanti tanti altri fondi di ogni forma colore e potenza quindi per i tuoi acquisti anche di prodotti professionali ti aspettiamo il negozio oppure è già attivo il servizio delivery consegniamo pesaro fano e valle foglia in giornata e ricordati anche di seguirci nelle nostre pagine facebook ed instagram cap profumerie 1 9 7 8 buone feste Grazie a tutti